Cale il sipario sulla non edizione del Mediterranean Track di Eboli, grandissima la partecipazione nella nuova location del Palasele Park. Oltre 50.000 visitatori che hanno confermato il successo di una manifestazione di caratura europea, iniziata venerdì con Aspettando il Mediterranean Track, e si è poi conclusa ieri sera. Il patron Cosimo Rivillo pensa già alla decima edizione. La squadra che vince non si cambia. Abbiamo vinto la scommessa della location del Palasele Park, un successo al di là delle aspettative. Speravamo che andasse bene, ma i risultati raggiunti ci hanno ripagato, oltre ogni previsione. Il pubblico è venuto in massa. Li ringraziamo, come ringrazio tutto il nostro staff, gli sponsor e tutti gli amici del track. Siamo già a lavoro, in sinergia con l'amministrazione del sindaco Cariello, ad una straordinaria decima edizione, con tantissime novità. Grazie.